cari fratelli e sorelle della missione RUA del mondo intero oggi è il giorno 35 del digiuno chiediamo a Gesù Gesù dacci il dono dello zelo la diligenza dello apostolico evochiamo lo spirito santo viene o spirito creatore visita le nostre menti riempie della tua grazia i cuori che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore iradi i tuoi sette doni suscita in noi la parola si luce all'intelletto fiamma ardente nel cuore sana le nostre ferite con balsamo del tuo amore difendici dell'enemico reca in dono la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce ed eterna sapienza svelaci il grande mistero di dio padre e figlio l'unite in un solo amore amè leggiamo del vangelo secondo marco capitolo 1 versetto 16 fino al 20 passando lungo il mare della galilea vide simone e andrea fratello di simone mentre gettavano le reti in mare erano infatti pescatori gesù disse loro seguitemi vi farò diventare i pescatori di uomini e subito lasciate le reti lo seguirono andando un po poco oltre vide sulla barca anche giacomo di zebedeo e giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti li chiamò ed essi lasciato il loro padre zebedeo sulla barca con i garzoni lo seguirono parola del signore lode a te o cristo gesù bel vedere come questi fratelli questi futuri apostoli lasciano la barca e seguono immediatamente a gesù seguitemi vi farò diventare pescatori di uomini che cosa entusiasmante è vero questo zelo apostolico questo zelo di trasmettere la parola del padre gesù lo trasmette ai suoi apostoli quando gesù chiama gli apostoli essi rispondono prontamente perché dobbiamo rispondere con la stessa prontezza perché la messa è grande ma pochi sono gli operatori pregate dunque il signore della messa che mandi gli operai nelle sue messe queste sono parole del vangelo di san matteo capitolo nonno ciascuno di noi deve chiedersi come rispondo al signore quando mi invita a partecipare quotidianamente la santa messa all'adorazione alla confessione a visitare un ammalato a un digiuno alla preghiera a aiutare il mio fratello che sta sulla strada che ha bisogno sono pronto dire sì a gesù se ci nutriamo del corpo di cristo e lo adoriamo allora giorno dopo giorno possiamo avvicinarci alla sua immagine sulla terra nelle parole e nei fatti se siamo docile i pronti a riverarlo e questo ci fa e ci dà quel zelo apostolico e ci dà quella felicità saremo disposti a donarlo agli altri perché ce l'abbiamo questa presenza di gesù che vuole che tutti sappiano che lui esiste e lui può dare quella pace che la cerca al mondo può dare quella felicità che la cercano uno zelo che viene come dono è così grande che non si può conservarlo per una persona se deve essere condiviso con gli altri che stanno intorno a noi e che hanno bisogno hanno fame di pace hanno fame di amore hanno fame di gioia e gesù stesso colui che ci si dona agli altri attraverso di noi lasciamo che gesù faccia che questo zelo apostolico cresca dentro di noi crescono le famiglie crescano cresca dentro della società dove viviamo perché è l'unico che può dare quella felicità che noi ci cerchiamo una persona da paraguai diceva gesù è entrato nel mio cuore e nella mia famiglia io ho sentito questo zelo apostolico di trasmetterlo dove lavoro sono un estetista o due figli io ho sentito di parlare gesù dal primo giorno di regiuno a tutti coloro che stanno venendo nel mio centro dove io lavoro è stata una lotta spirituale continuare nel caos continuare nel caos o mettere in ordine la mia vita mio marito abbiamo visuto insieme nove anni ma non eravamo ancora sposati in chiesa all'inizio non mi capiva ma con il tempo ho scoperto che gesù era colui che faceva tutto in me ho dovuto affrontare una lotta spirituale dovevo decidere se continuare nel caos o mettere in ordine la mia vita il digiuno e liberazione e correzione e guarigione il primo digiuno mi ha fatto scoprire che avevo intrapreso una strada sbagliata con la persona che mi aveva dato dio accanto ma senza dio oggi posso dire dopo diverse esperienze di digiuno che gesù è entrato nella mia famiglia ha cambiato tante cose ha guarito la mia famiglia dopo il secondo digiuno ho potuto vedere il più grande miracolo mi sono sposato in chiesa dopo tanti anni di vita visuta nel disordine gesù ha salvato mie e mio marito e miei figli ho sentito che questo secondo digiuno doveva farlo in castità il sacerdote che ci ha preparato il matrimonio mi ha incoraggiato in questo io mamma e mio marito anche se all'inizio non capivo ha detto ora non capisce più tardi capirai quante benedizioni saranno per nostra famiglia e così è stata perché la mia famiglia è entrata la pace la gioia la pazienza la comprensione il zelo il zelo di trasmettere a gesù gesù è entrato nell'anima dei miei figli io ho sentito che la mia gioia di parlare di gesù è trasmessa come contagiosa anche nella famiglia ho imparato la vera umiltà una socera che lavora per i poveri e li nutri e mi ha insegnato la carità e una benedizione così ho dovuto chiedere al signore di imparare dalla mia socera quelle cose che io non ho fatto fino a quel momento ho completamente cambiato i miei amici il telefono adesso è pieno di numeri di telefono dei suori e dei sacerdoti e delle persone poveri questo è stato il miracolo il dono anche della pazienza Dio mi ha insegnato la pazienza pensavo che dopo il primo digiuno la mia vita sarebbe cambiata immediatamente ma ho potuto vedere devo avere pazienza io ho visto come ogni digiuno era una benedizione ogni digiuno era una resurrezione della mia famiglia e la mia stessa e così piano piano mi piace dire che gesù mi ha innamorato anche delle cose del cielo come le anime del purgatorio adesso prego ogni giorno cento revie e anche ho chiesto al signore più amore per i poveri mi ha cambiato le mie priorità inizia adesso tutto e gesù fa tutto con me ricordo che ho avuto tante tentazioni di lasciare il digiuno e mi ricordavo le parole di gesù il tentatore allora le accosso e gli disse se sei figlio di Dio di a questi sassi diventano pane ma è lì rispose sto sta scritto non di solo pane vive l'uomo ma di tutto ogni parola che esce dalla bocca di Dio del Matteo 4 versetto 3 e 4 ecco come Gesù mi aiutava a lottare contro la mia carne che si voleva allontanare mi voleva allontanare la volontà di Dio guarigione nel seno della mia madre non ho compresso come Gesù mi abbia sempre amata i pioi chiamata della vita ho capito che des del seno della mia mamma Gesù mi ha scelto da un milione di embrioni ho capito che lui mi ha scelto per cose grandi sono un sogno di Dio e voglio diventare questo sogno una realtà voglio essere santa come Dio santa e con lui tutto è possibile senza di lui niente è possibile belle parole di questa persona e belle e anche profonde un'altra persona di Paraguay diceva il dono della riconciliazione è arrivato nella mia famiglia Gesù mi ha aiutato a non giudicare ma a perdonare ha mandato me per aiutarli la mia sorella stava litigando con il suo marito così ho pregato gli offerto il mio digiuno per loro gli ho potuto constatare con i miei occhi il miracolo Gesù ha raggiunto la famiglia ho offerto vari giorni di digiuno per la riconciliazione del matrimonio della mia sorella e questo è stato un miracolo anche la mia poca fede aumentata il zello apostolico è aumentato alla fine del digiuno non soffrivo più perché in momenti di diffidenza e di scoraggiamento c'era lui e che mi prendeva per la mano e mi diceva non temere io sono con te ricordo che sono trecentosessantacinque volte nella bibbia dove scrive non avere paura queste parole sono per me quanto mi sveglio al mattino penso che Gesù mi dice inizia la giornata senza paura non avere paura sono con te quante persone che vivono con paura e potrebbe ripetere queste parole cari fratelli sorelle non abbi paura sono con te non abbi paura sono con te te lo sta dicendo Gesù te lo sta dicendo dio padre che lo sta dicendo la vergine maria te lo sta dicendo tutti i santi anche te lo sta dicendo lo spirito santo la frase di san pietro poveda in cui conclude questa meditazione di questo giorno se egli vive in noi in noi in nostri modi il nostro aspetto le nostre parole e le nostre azioni diventeranno cristo si vive a lungo con lui col tempo do sarai come lui belle parole si vive a lungo con lui col tempo sarai come lui lasciamo che lo spirito santo soppi che riceviamo questa grazia dello zelo apostolico in questo giorno dio padre unipotente in questo trentacinquesimo giorno di digiuno mandaci lo spirito santo con il dono del zelo affinché possiamo pronunciare un sì fermo alla tua volontà divina sia nel ricevere a gesù il più spesso possibile sia nel donare ogni giorno ogni volta che ci sia data l'opportunità riceverlo sempre nell'eucaristia nella parola nell'adorazione nell'opportunità di darlo agli altri per cristo nostro signore amen e la benedizione di dio padre figlio lo spirito santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre e la vergine maria vi copre con il suo amato amen amen e la divina volontà io oh Tuo, tuo, tuo